Giovedì 3 febbraio si è svolto a Torino incontra un convegno dal titolo Progettare, costruire e sostenibile. L'appuntamento, articolato in un'intera giornata, ha avuto obiettivo un confronto fra le istituzioni e gli operatori pubblici e privati, sulle strategie e sulle soluzioni che si stanno affermando e sperimentando a livello nazionale e regionale, in tema di efficienza energetica e comfort acustico per il conseguimento di una qualità architettonica a scale edilizia ed urbana. Noi abbiamo deciso di aderire perché ci è stato chiesto di effettuare un intervento in riferimento alle nuove normative, nello specifico per quanto riguarda i serramenti, perché dal 2010 è entrata in vigore la marcatura CE sul serramento, però è ancora un discorso poco conosciuto, soprattutto dal punto di vista sia dell'ente pubblico che dei progettisti e oggi, vista la platea dei partecipanti, ci è sembrato giusto poter spiegare alla platea quali sono i vincoli, quali sono le caratteristiche e le prestazioni richieste da questo tipo di normativa. In più presenteremo un'importante realizzazione effettuata dal nostro cliente Pastore Serramenti di Borgo Manero, che è un edificio residenziale in classe A, dove praticamente tutti i consumi sono azzerati, perché sono state inserite pompe di calore, impianto fotovoltaico, solare termico e in particolar modo anche sono stati chiaramente installati i nostri serramenti ad alta efficienza energetica. Questo discorso delle case in classe A sta prendendo sempre più piede e quindi ci pareva molto importante oggi poter portare questo esempio concreto di realizzazione in un contesto anche gradevole dal punto di vista estetico.